Ciao a tutti e bentornati a Cosmopolinerd, anzi, benvenuti a Seriacce. Io amo il brutto. Sì, molto più del bello, soprattutto in campo seriale. D'altronde siamo tutti buoni a fare serie strabelle come Breaking Bad, Better Call Saul, Fleabag. Volete mettere invece quanta genialità con la gn ci vuole per sfornare la roba brutta, la roba trash? Lì sì che c'è ispirazione, originalità, arte, bellezza vera, perché nulla è più bello del brutto, ricordatelo. E visto che Baby, la serie italiana originale Netflix, in particolar modo con la sua terza e ultima stagione, disponibile finalmente sulla piattaforma streaming, ne sembra un esempio lampante e mi sono detta perché non iniziare proprio con lei questa mia nuova rubrica Seriacce? Quindi preparatevi, questa sarà una recensione ricca di spoiler e di ironia e di sarcasmo, ma prima di tutto c'è una cosa che dovete fare, ovvero iscrivervi al canale YouTube di Cosmopolinerd cliccando sul tastino iscriviti e attivando la campanella delle notifiche anche su cellulare, che è sempre una cosa importantissima. E se volete aiutarmi a diffondere il verbo di Cosmopolinerd Everywhere, allora followatemi su Instagram, mettete mi piace alla mia pagina Facebook e condividete questo video in ogni dove. Bene, ciancio alle bande e seriacce. C'era una volta una serie tv italiana che non era né bella né brutta, né trash né di gusto, né interessante né noiosa, insomma, che non aveva ancora scoperto il proprio pieno potenziale. Ed era un vero peccato perché a un attento occhio esperto non era certo sfuggito che in tale serie tv italiana ci fosse della ciccia. Ma forse, proprio come le sue giovani protagoniste, non era ancora riuscita a spiccare il salto verso la consapevolezza di sé. Ma questa fiaba ha un lieto fine, perché fortunatamente è uscita su Netflix la terza stagione di Baby, tale serie tv italiana di cui vi stavo narrando le gesta, ed è talmente ricca di colpi di genialità assoluta che non ho potuto che reagire saltellando per l'entusiasmo. Quindi che ne dite di esplorare assieme i dieci per come, grazie ai quali Baby con la sua terza stagione si è finalmente aggiudicata l'onore di diventare una seriaccia? Vorrei iniziare con uno, forse, dei meriti più grandi in assoluto che ha questo show, ovvero il ritratto per niente generalizzato degli adulti che se non sono ambigui e o disonesti però sono sicuramente dei deficienti patentati. Mi sono trovata appunto a domandarmi ma è possibile che ci riduciamo davvero tutti così quando finiamo le superiori? Perché vedete, grazie all'incredibile approfondimento psicologico di tutti i suoi personaggi, soprattutto di quelli da una certa età in su, spinge a porti delle domande, avagliare le tue certezze non solo esistenziali, per dire, una delle mie certezze è sempre stata che, ed ecco il secondo per come, le cose che accadono ai personaggi di un prodotto di intrattenimento devono avere un senso con quello che hanno vissuto tali personaggi fino a quel punto della narrazione, e invece Baby, o meglio la terza stagione di Baby, ci dimostra che non è così, che una protagonista può tranquillamente scoprire che il grande desiderio della sua vita è andare a studiare fumetti in un'accademia d'arte a Parigi, quando in realtà ha cominciato a disegnare, o meglio scopriamo che ha cominciato a disegnare, tipo un paio di episodi prima della fine. Ma che davvero, davvero? Certo, magari avrebbe funzionato un pelo di più inserire la cosa del disegno a cominciare dalla prima stagione, ma uff, quanto stiamo a sottilizzare, perché c'è un altro per come estremamente interessante. Infatti, se tu sei Ludovica, futura autrice di fumetti, ma a scuola sei una vera schiappa, in base a quali criteri sei stata accettata in questa accademia d'arte a Parigi, in base a quale merito scolastico, in base a quale curriculum di studi, certo, sicuramente disegnerai benissimo, ma basta questo. E tra l'altro, non studi mai, a quanto pare non sai una mazza di niente, ma sai abbastanza bene il francese da poterti trasferire a vivere e a studiare a Parigi, ok? Che noi italiani riusciamo a farci capire ovunque. Ma ragazze e ragazzi, è in casi come questi che si deve urlare al capolavoro. Quando si scopre che una serie come Baby non è soltanto un teen drama come ha voluto farci credere birbantelli nelle prime due stagioni, no, è anche una serie di fantascienza in cui succedono cose al di fuori dell'ordinario, al di fuori del ragionevole e al di fuori anche della grazia divina, come ci dimostra il quarto per come, con tutti i personaggi abbandonati nel corso delle due stagioni finali. Abbiamo il personaggio di Camilla che conosciamo come miglior amica della protagonista Chiara, ad un certo punto va in America, poi torna ed è una persona completamente diversa. E non sapremo mai perché. Non è una figata Baby adora lasciarci la sospans? Un po' come la trottola alla fine di Inception di Christopher Nolan, no? Non esattamente. E per come numero 5 vogliamo parlare di quegli incredibili momenti onirici, anche un po' metanarrativi, addirittura avanguardistici, lasciatemelo dire, che appaiono così a Cazzoom Decanem nella terza stagione di Baby, senza che ci siano mai stati momenti simili nelle prime due stagioni precedenti. Perché in fondo, ammettiamolo, è praticamente inutile sbattersi per trovare una continuità stilistica, narrativa, con ciò che è accaduto e se hai visto prima, quando puoi semplicemente raccontare quello che vuoi, come vuoi. Tanto il progetto è tuo, quindi. E tale indipendenza, tale autonomia, secondo me trovano il loro compimento massimo nel per come numero 6, ovvero nella rappresentazione per niente superficiale del baby squillismo. Una marachella fatta tra amiche o aiuto se la polizia ci becca, chissà che cosa succede, facciamo un giretto in macchina con un orsacchiotto enorme di peluche e poi ridiamocela di gusto che tanto resterà questo un ricordo sbrilluccicoso dell'epoca migliore della nostra vita, ovvero l'adolescenza. Che poi, per come numero 7, lasciatemi tessere le lodi di quella meraviglia concettuale del trasformare una serie sul baby squillismo trasformarla a monte in primis, voglio dire in un teen drama, dandole dunque quei connotati impliciti, ma neanche tanto, di ordinarietà, di normalità, come appunto se fare le baby squillo fosse una cosa proprio tranquillissima tra gli adolescenti. Ma per come numero 8 c'è una contraddizione, ma è nella contraddizione che risiede l'arte vera e sincera, sapete? Ovvero fare una serie sulle baby squillo cercando di parlare meno possibile del baby squillismo. Perché per quanto proprio quello dovrebbe essere il punto focale del racconto di baby, in realtà si inseriscono quintalate di personaggi, quintalate di storyline, perché intanto è la quantità che conta, non la qualità, giusto per diluire un po' il tutto e per non rendere così il fattore baby squillismo. Perché ricordiamoci che baby è sì una serie sulle baby squillo, ma che di squillo prima di tutto ha praticamente soltanto quello del cellulare ed è pudica e morigerata quasi quanto un episodio medio di Don Matteo. Don Matteo, lei ha visto qualcosa? No, io ero fuori. Ma dico io, o meglio direi io se fosse una pignoletta che non ama il trash e la roba brutta, non sarebbe stato meglio affrontare il fenomeno del baby squillismo in modo analitico, non dico documentaristico perché documentari veramente lo guardano solo le persone noiose. Ma visto che il piglio appunto non è quello analitico magari potremmo evitare di ammantare il tutto di questa estrema pretesa di realismo, no? Ma che è per come numero nove? Perché non ci mettiamo a raccontare una storia che può sembrare una storia vera, un po' realistica, un po' no, con questa estetica super patinata che ti crea proprio una barriera invisibile che non ti fa entrare nella vicenda. Tra l'altro un'estetica figa e figa lo dico proprio senza ironia che però è patinata a fine a se stessa, che non aggiunge niente al racconto e che non è minimamente legata ad esso. Ecco, io non criticherei mai baby in questo modo ma probabilmente voi sì e ho capito perché la critichereste in questo modo, amici, perché siete fan di scam e delle cose belle vi ho fregati e quindi per come numero 10 è tutta colpa di scam di come ha raccontato l'adolescenza italiana e non solo con quel realismo, con quella cifra estremamente azzeccata, con tanta empatia, tanta intelligenza, tanto spirito di osservazione e conoscenza del mondo appunto degli adolescenti è tutta colpa di scam. Ma la terza stagione di baby non ha soltanto i 10 per come e no cari ha anche il suo elemento geniale rigorosamente con la gn che viene incarnato da un personaggio ovvero l'ispettore pasticcioni e sì perché nella terza stagione di baby arriva anche la polizia con la P maiuscola e questo ispettore insomma questo poliziotto che indaga sul caso delle baby squillo dei parioli è meraviglioso è proprio l'incarnazione di tutto ciò che è bello nella terza stagione di baby perché io un ispettore pasticcioni più pasticcione di questo per dincibacco ragazzi non l'avevo mai visto l'unico membro delle forze dell'ordine italiane che se ha in mano una pistola e si trova ad affrontare un super criminale con anche lui una pistola puntata se il super criminale gli dice metti giù l'arma e l'ispettore pasticcioni lo fa è ispettore pasticcioni che è talmente sul pezzo che riesce a farsi fregare dai ragazzini ha una tipologia di metodo investigativo veramente sui generi che crede alle dichiarazioni altrui senza alcun bisogno di prova ma che soprattutto ha anche qualche problema con la lingua italiana perché ad un certo punto della terza stagione la mamma di Ludovica interpretata da Isabella Ferrari va da lui va in commissariato e gli racconta che la figlia è sparita non si sa se si sia allontanata di sua spontanea volontà oppure è stata rapita da qualcuno e infatti lui le dice signora io comprendo la sua angoscia ma Ludovica è maggiorenne e in base a quello che lei ci ha raccontato tutto lascia pensare a un allontanamento volontario e lei Isabella Ferrari la mamma di Ludovica gli dice cosa significa scusi che non potete cercarla no noi vorremmo cercarla le risponde l'ispettore pasticcioni ma non possiamo ora lei ti ha appena chiesto se non potete cercarla e tu le dici no ma non possiamo insomma capite che l'ispettore pasticcioni che ho chiamato io ispettore pasticcioni è il vero elemento geniale con la gne non solo della terza stagione di Baby ma di tutto Baby messo assieme e considerate che è una serie che ci ha regalato alcuni momenti davvero indimenticabili ma come sicuramente saprete ogni seriaccia conserva in sé degli importantissimi insegnamenti ogni seriaccia è una lezione di vita una sorta di corso accelerato di cosa non fare cioè volevo dire di cosa fare assolutamente e quindi domandiamoci che cosa abbiamo imparato da Baby che quando racconti qualcosa di specifico inserisci un elemento in particolare all'interno della tua storia non è assolutamente necessario documentarsi tipo se inserisci un poliziotto all'interno della tua narrazione perché devi capire come funzionano le dinamiche poliziesche perché devi capire come funziona e come si muove e come parla un poliziotto perché in fondo in fondo studiare leggere informarsi non serve a niente tu vuoi raccontare qualcosa anche se non è plausibile anzi la magia aumenta e poi abbiamo imparato che la coerenza di qualunque tipo non serve anzi alla parola coerenza dovreste reagire co e che ma dico né la coerenza narrativa né quella concettuale né quella espressiva né quella strutturale che permette che le varie stagioni di un progetto seriale abbiano un senso se prese nella totalità racconta la storia che vuoi come vuoi con l'estetica che vuoi e se poi uno di questi elementi non c'entra proprio una mazza con gli altri pazienza come dicevo la magia aumenta e poi abbiamo imparato infine che baby è praticamente lo specchio della tipologia di adolescenza che racconta bellissima fuori e dentro senti l'eco anche se in questo istante mi sta venendo il sospetto che forse forse tale parallelismo non è stata una cosa voluta e studiata a tavolino ma piuttosto una cosa capitata a caso quindi una sorta di enorme colpo di cui volevo dire di genialità con la gnò e quindi alla luce di tutto ciò posso dire con amore e devozione assoluta che baby è davvero una seriaccia se questo video vi è piaciuto come è piaciuto a Pimpi che anche lui è un grandissimo fan delle seriacce e a Tresciorso che potrebbe diventare un ospite delle future puntate della rubrica seriacce allora dovete fare sempre le solite cose ovvero mettere mi piace lasciare un commento iscrivervi al canale youtube di Cosmopoliner attivando anche la campanella delle notifiche su in alto che è sempre una cosa importantissima altrimenti ditemi qual è la vostra seriaccia preferita scrivetelo nei commenti di Cosmopoliner di Cosmopoliner di Cosmopoliner